Tra le squadre allenate in passato da Zeman c'è il Foggia che ha da poco acquistato Vincenzo Sarno. Lo ricorderete, era quel giovanissimo talento che a 11 anni stregò il Torino. Lo ha incontrato Gianni Pezzi? Quello che piccolino, si parlava di un grande talento, pagato 120 milioni, allora erano lì da Torino. Poi che è successo? Sono stato messo un po' in mezzo, diciamo. Io non capivo poco e nulla, è una storia passata che non ricordo con piacere, sinceramente. Tutte quelle cose che dicevo su di me, il nuovo Maradona, tutte queste cose qui, non mi sono mai pesate perché non mi specchiavo proprio. Chi è calcisticamente Vincenzo Sarno? Devin Linio, bravo tecnicamente, che predilige di fare gli assist per i compagni e sperando di fare qualche gol in più è stato sempre un mio difetto. Ho fatto dei campionati un po' così e così, negli ultimi anni ho vinto due campionati, ho fatto un campionato importante in Serie B con la Regina. Sperando, sono venuto qui a Foggia, qui a Foggia per me è un trappone in bilancio. Cos'è che non rifareste? Rifare tutto, non ho rimpianti, non ho niente. Io non guardo ne indietro, ma guardo sempre avanti. E davanti cosa c'è, secondo te, adesso? Che hai 26 anni, eh? Davanti ho questa opportunità importante che è Foggia e spero di sfruttarla al meglio.